ciao ciao battigio guardate questo è il mio regalo per un natale speciale il tipico regalo che vi aspettereste da un genio come me evviva 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 non riesco a credere ai miei occhi koji ma questa slitta è veramente bellissima è identica a come ho sempre immaginato che potesse essere la vera slitta di babbo natale ho deciso nel giorno di natale mentre la vestirò da babbo natale volerò soprattutto alla città e porterò i doni ai bambini che sono stati buoni saranno tutti così felici nel vedermi sono commosso solo al pensiero delle loro facce dovresti frenare un po le tue emozioni ciociù koji possiamo provare a fare un giro con la slitta perché no certamente ecco il telecomando per guidare la slitta ciociù sei pronto per diventare babbo natale sono pronto prontissimo wow e uccellini guardate anch'io posso volare proprio come voi ai 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 questi uccellini sembrano proprio arrabbiati koji la slitta dovrebbe essere controllata dal telecomando ma sta andando per conto suo sembra proprio che ci siano dei problemi tecnici dovrà sistemarla questa slitta mi ha proprio messo capò non ti preoccupare ciocià il ricambio per questa slitta si trova nel mio laboratorio la riparerò immediatamente si ma koji noi dobbiamo distribuire i doni ai bambini stanotte stessa non abbiamo molto tempo tranquillo farò del mio meglio per riparare la slitta al più presto fai quello che devi ora io devo prepararmi per stasera fino ad allora pensa a riparare la slitta oh i boh ho qui pronti tutti i doni da distribuire ai bambini stanotte e con questo costume rosso sembro proprio babbo natale sembra proprio che quel ciccione stia trasportando un bel bottino avanti rossi prendiamoglielo subito andiamo oh no ma dove è finito il mio sacco con i doni per i bambini ehi ciociù cosa c'è cosa devo dirti il mio sacco dei doni è stato rubato e ora dimmi cosa porterò ai bambini stanotte sono nei guai calmati ciociù troveremo una soluzione ehi battigia per fortuna non mi hanno rubato anche il tuo regalo oh oh wow guarda un walkie talkie già volevo regalartene due ma l'altro l'ho lasciato nel sacco non serve a niente averne uno solo lasciamelo buttare via idea sai ciociù forse questo walkie talkie può aiutarci a scovare il ladro ma davvero e come proviamo a chiamare con il walkie talkie il terminale che si trova nel sacco che ti hanno rubato ma che scherzo è questo dentro al sacco ci sono soltanto dei doni per bambini che perdita di tempo pronta ciociù devi far finta di essere babbo natale chiedi che ti restituisca tutti i regali oh pronto qui è babbo natale chi parla e giocava non può essere davvero babbo natale hai ragione rosy pronto se tu sei babbo natale allora io sono un extraterrestre che sciocchezza un alieno non parla al telefono allora se babbo natale può fare delle telefonate perché non potrebbe farle anche un alieno ciociù questi ladri non sono altri che giocavare e rosy devi dirgli così ascolta bene giocavare hai rubato il sacco con i doni che avevo preparato per i bambini devi ridarmelo immediatamente come fai a sapere che sono proprio giocavare ma te l'ho detto prima sono babbo natale e io so sempre tutto giocavare perché dovremmo restituire il bottino digli che vuoi qualcosa in cambio eh giocavare giri da troppo tempo con quella vecchia motocicletta potrei darti un nuovo veicolo tutto per te proveresti la sensazione di volare ma che cosa dice babbo natale giocavare non vorrei mica cambiarmi sono la tua fedele compagna da così tanti anni ha ragione babbo natale rosy ormai tu sei vecchia e ho assolutamente bisogno di un mezzo più veloce devo cogliere la palla al balzo ottimo giocavare porta il sacco con tutti i doni alla vecchia discarica troverai lì il tuo nuovo veicolo il mio piano ha funzionato ora vediamo cosa succederà pronto cia cia? sono riuscito a riparare la slitta alla perfezione il telecomando funziona stai certo che non ci saranno più problemi con il volo vieni a prenderla il prima possibile e batti già, Koji dice di aver riparato la slitta ma io non voglio più salire su quella sua invenzione non so cosa mi potrebbe succedere cia ciu, non ti preoccupare non dovrai salire su quella slitta lo farà il nostro giocavar sono contento che tu sia venuto giocavar il tuo nuovo mezzo volante ti aspetta giocavar, aspetta un attimo c'è qualcosa di strano non vedo Papo Natale da nessuna parte Rossi, stai buona sei solo celosa e sospettosa quel regalo è mio andiamo? inizia il divertimento oh, che veicolo fantastico può davvero volare e che tiro di questa splendida vista notturna wow, è veramente una gioia per i miei occhi questo regalo diventerà presto la tua punizione mio caro giocavar oh, aiuto ma che tiro mi sta succedendo? dimmi, giocavar ti stai divertendo? che razza di guaio mi hai calciato, Papo Natale aiuto aiuto Battigia dame subito il telecomando o farò cadere tutti i doni per i bambini e rovinerò il Natale guarda Battigia è il mio sacco con i regali ok, giocavar prendilo eccalo rosy sei tu la mia più cara amica salvami rosy ceciù adesso tocca a te salire sulla slitta dai no Battigia non ci voglio più salire su quella slitta io ho troppa paura non preoccuparti ceciù salirò anch'io assieme a te tranquillo e finché sarò al tuo fianco non ti accadrà nulla ci penso io a catturare giocavar non potrà sfuggire al mio poderoso calcio che meraviglia la slitta non mi fa più così paura sprighiamoci dobbiamo consegnare i doni ai bambini grazie grazie sì, sì guarda è Babbo Natale ha portato dei doni a tutti i guardi grazie Babbo Natale dà già auguri hai rubato i doni per i bambini dovresti solo vergognarti fermati oh oh accidenti ma da dove è spuntata la polizia rosy blocca la strada bandocchini fermati oh Babbo Natale aiutaci a catturare quel ladro non può farla franca nessuno può sfuggire alla legge e ai calci di bandocchini ma guarda questo è lo stile inconfondibile del capo il male riceve sempre una punizione vero Cha Cha? oh 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 hai ragione Battigia buon Natale il treno sta per arrivare attento la zia è molto molto particolare Battigia in che senso la zia è molto particolare? lo scoprirai presto oh oh il treno è arrivato oh 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 benvenuta zia nipote sei uno screanzato wow ha ragione la zia è davvero molto forte scansa fatiche mangiando le mandorle sono sana e forte lascia che ora chiami un facchino per prendere i bagagli cosa? non abbiamo bisogno di un facchino puoi portare da solo i miei bagagli muoviti fa nullone oh Battigia tesoro come stai? sto bene mi fa molto piacere ceciù dimmi vuoi una mano? oh sei solo un bambino alla tua età devi giocare lascialo perdere se la cava da solo e questi cosa sono? è un tipo di veicolo? oh possono essere utili a quello scansa fatiche di ciazza si si tra poco oh ehi fai attenzione eccolo sei già stanco di non fare niente? bella vita guiderò io lo scooter zia guiderai lo scooter? ho sempre gareggiato e mai perso con le moto guidare uno scooter è facile come mangiare un gelato nipote mio prenditi cura dei bagagli preparatevi a volare che meraviglia per quanto non prendi in mano uno scooter il nostro metodo è rubare i passanti la specialità della nostra banda la nostra preda sta arrivando e noi siamo sempre pronti ad entrare in azione in questo modo si guida uno scooter come fa la zia? cia cia? spero che le mie valigie siano integre dai muoviti su si zia è tutto ok cia ciu ma la zia ha portato tre valigie tu ne hai solo due dov'è la terza? la terza è sparita che cosa facciamo? cia ciu torni indietro e la cerco potrebbe essere caduta da qualche parte non dire nulla alla zia anzi trovo una scusa per intrattenerla cercherò di risolvere la situazione sono bene a sapere e si arrabbierà la zia diventa molto molto pericolosa ahimè ciao come va? hai perso qualcosa? in realtà stavo attraversando questa strada mentre tornavo a casa la mia valigia era sopra il taxi è sparita la sto cercando è qui da qualche parte per caso che giornata come ha fatto a sparire la valigia? è svanita nel nulla magicamente? perché ci sono così tanti graffi su quel ramo? e specialmente solo su quest'albero? ah qualcosa non mi torna pensiamo un attimo ho capito e cosa è successo a mio nipote? hai acceso il fornello eh? non riesco a sentire il fischio allora il fischio sì certo che cosa posso inventare? oh non riesco come chiuderla accidenti come posso fare a chiudere questa pentola? oh non riesco a sentire oh oh Bapticia dimmi per favore hai trovato la valigia della zia Chachou, domani riavremo la sua valigia. C'è una banda di ladri in città e li coglieremo in flagrante. Chachou, hai per caso perso una valigia? Ma, 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 Sia, la ritroveremo, sta tranquilla. Non mi fido molto di quello che dici, voglio la mia valigia. Sia, non preoccuparti, la ritroverò. È una promessa, fidati di me, sono tua nipote. No, 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 ti ho lasciato la valigia in custodia una volta e me basta, eh no. Non ripeterò lo stesso sbaglio, troverò da sola la mia valigia. Battigia, ascoltami, portami dove si trovano i ladri. Gli darò io una bella lezione, ah? No, Battigia, dove mi hai portato, ah? Dimmi, non ci sono ladri qui, almeno non ne vedo. Li vedrai presto, zia. Lascia che arrivano i taxi, i ladri entreranno in azione. Guarda, ecco la banda di ladri. Si nascondono tra gli alberi e rubano le valigie delle persone. Appendiamoli! Ehi, ladro! Restituisci la mia valigia, muoviti! Sugli alberi ci appendiamo, i migliori ladri noi siamo! Ehi, prendi! Zia, attenta! Un furgoncino ci viene addosso! Dove sarà? Ecco la mia valigia rossa! L'ho ritrovata! Come avete osato rubarla, ladri da strapazzo? Ditevi, eh? Volete una lezione? Nonnina, lascia la valigia e battene. Sarà meglio per te se non vuoi farti del male. Chiaro? Non osare rivolgerti così a mia zia, hai capito? Dimmi, hai il coraggio di affrontarmi? Oh, oh! Sembra che tutta la famiglia sia riunita. Mostriamo loro che la nostra banda non scherza affatto. Sugli alberi ci appendiamo! I ladri numeri uno, noi siamo! Lascia che mostri a questi ragazzacci con chi hanno a che fare! Sì, siamo pronti! Ehi, Battigia! Dai, anche a me ho un bastone. Prendi! Hai la faccia tosta di volermi affrontare! Ti darò una lezione che non dimenticherai mai. Ecco la tecnica del ballone! Non dobbiamo ballare! Dobbiamo prenderli senza perdere tempo! Muovetevi! Fermati! Basta! Io voglio la mia valigia rossa a tutti i costi, avete capito? Sì, venite a prendermi! Non sai che mangiando mandorle si diventa forti? Wow, zia! Li hai messi al tappeto! Sembra che ci siano cose molto costose nella tua valigia, visto che hai combattuto così tanto! Una marmellata! Che ho preparato con le mie stesse mani, con tanto amore! Solo per te, mio caro nipote! Prendete! Mangiate! Wow, zia! Questa marmellata è davvero ottima! Dopotutto, la zia l'ha preparata con amore apposta per me! Niente ha più valore di mio nipote della mia marmellata!